Onorevole Roberto Speranza, Partito Democratico, leader della sinistra riformista. Perché no? Perché con questa riforma unita alla legge elettorale si concentra troppo potere nelle mani di uno solo e credo che l'Italia non abbia bisogno di questo. In più si riducono di molto i poteri e le competenze delle regioni e anche queste tornano a Roma. C'è una sostanziale cultura e impostazione che tende a verticalizzare, a concentrare il potere. Io credo che in questo momento qui sia una soluzione sbagliata.